Nell'agosto 2023 sull'isola tailandese di Kok Pakan, Daniel Sancho Broccalo, uno chef spagnolo divenuto famoso su YouTube, figlio dell'attore Rodolfo Sancho Aguirre, ha commesso un crimine sconvolgente. Sancho ha ucciso e smembrato il suo amico Edwin Arieta Arteaga, un chirurgo plastico colombiano di 44 anni conosciuto su Instagram l'anno precedente. I due si erano incontrati sull'isola per celebrare la festa della luna piena, ma il 2 agosto Sancho ha tolto la vita al chirurgo utilizzando gli utensili acquistati il giorno prima in un supermercato. Dopo aver denunciato la scomparsa di Arieta, Sancho è stato interrogato dalla polizia che aveva scoperto resti umani in una discarica. Di fronte alle prove, Sancho ha confessato il delitto, motivando il gesto con la gelosia. Successivamente però ha cambiato versione, sostenendo che la morte del chirurgo fosse avvenuta per errore durante una rissa, provocata da un presunto tentativo di aggressione sessuale da parte della vittima. Il processo iniziato nell'aprile 2024 si è concluso con una condanna all'ergastolo, inizialmente prevista come pena di morte, poi commutata grazie alla collaborazione di Sancho durante il procedimento. La famiglia della vittima ha colto positivamente la sentenza e il risarcimento di 107 mila euro. Tuttavia la difesa di Sancho ha comunicato l'intenzione di ricorrere in appello. In Thailandia la pena di morte è ancora in vigore, ma raramente eseguita, con l'ultima esecuzione risalente al 2018.